Sarà una Pasqua anomala caratterizzata dal distanziamento sociale. Almeno sarà così nella gran parte dei casi. Tuttavia c'è chi non riesce a rinunciare all'irrefrenabile estinto di grigliare nonostante le restrizioni. Contro questi cittadini, che dimostrano scarso senso civico, il questore di Sernia Roberto Pellicone ha predisposto un controllo straordinario del territorio. Abbiamo già in corso una serie di servizi di controllo del territorio. Servizi di controllo del territorio che sono stati intensificati ulteriormente. È stata prevista un'unione in prefettura in sede di comitato, nella quale il signor Prefetto ha disposto l'intensificazione di questi servizi, che è stata pianificata in sede di tavolo tecnico qui in questura, e alla quale concorrono tutte le forze di polizia e anche le polizie locali. Saranno messe in campo numerosissime pattuglie per presidere il territorio sia della città che della provincia. Sono previsti dei posti di controllo e dei posti di blocco con dei veri e propri checkpoint per evitare che possano arrivare in questa provincia persone provenienti dalla Campania o dal Lazio e per evitare che i cittadini decidano, speriamo di no, di andare nelle case che hanno le seconde case. Riaprire la casa al mare, recarsi a staffoli per una giornata nella natura, raggiungere la campagna dell'amico per Gozzo Vigliare. Si tratta di idee malsane che potrebbero costare carissimo in termini economici. Le sanzioni infatti sono particolarmente onerose. E' chiaro che i rischi, sappiamo, sono previsti dai vari decreti che sono stati emanati e sono chiaramente rischi pesanti. Quindi proprio per questo, ma non solo per questo, perché occorre capire che queste limitazioni sono imposte per evitare la diffusione del virus. Quindi a prescindere dalle sanzioni che sono previste, occorre senso civico per tutelare se stessi e per tutelare gli altri. Questo è il messaggio che noi vogliamo diffondere e vogliamo far sì che il cittadino comprenda le reali motivazioni che stanno alla base di queste limitazioni. Rilassarsi ora è pericoloso. Rischia infatti di vanificare gli sforzi compiuti da tutta la popolazione in questo periodo di emergenza sanitaria. Sino ad oggi, gli sernini si sono dimostrati particolarmente ligi rispetto alle regole, dopo un iniziale periodo di sbandamento dettato dalla nuova condizione sociale. Ma devo dire che inizialmente non è stato facile far comprendere la necessità di proseguire queste limitazioni. Ma via via devo dire che i cittadini hanno dimostrato un buon senso civico, hanno compreso. Noi, dico ai miei ragazzi, che peraltro voglio ringraziare che lavorano su strada con grandissimo impegno, con sacrificio e correndo anche dei rischi, che stanno facendo un ottimo lavoro. Ma il messaggio che io attraverso i miei ragazzi ho voluto dare ai cittadini è quello di essere rigorosi con chi non intende rispettare le regole, ma agire con senso dell'umanità nei confronti di chi ha bisogno e quindi essere vicini veramente ai cittadini più bisognosi.